Bene, non vi attaccate, sempre 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 col compagno, sempre col compagno, Riccardo. Sì, ho capito che cosa ne ho mai scoperto. Non è facile, non è difficile. Bene, due passaggi per ogni esercizio, quindi, fino a tutti, lì sei in mora, do di mora, pian piano, riconosciamo, adesso do di mora, appena ripartiamo, arriviamo, primo cinesino, apertura, teniamo il busto in ecco, sì sì, partito no, è arrivato al primo, arriva lento, lento, apri bene, bravo, apri bene, Non fate movimento violento, aprite bene.